buona giornata amici di fano tv oggi è giovedì 17 novembre 2022 bentrovati alla rassegna stampa cominciamo insieme la giornata dando un'occhiata ai giornali vediamo ancora tante notizie di cronaca ci sono due avvenimenti particolarmente importanti che hanno funestato questo è il termine esatto la nostra comunità locale in modo particolare per quanto riguarda fano dicevo l'assassinio di una ragazza ucraina che era fuggita dal suo paese per fuggire dall'orrore della guerra e trovare più serenità invece nella nostra città ha trovato la morte per mano del marito e poi le risse le turbative di ordine pubblico che si sono susseguite in via nolfi sono queste le notizie principali su cui accentrano la loro attenzione ancora oggi i giornali ma partiamo dall'almanacco è un modo così per iniziare un po' per stemperare il dramma che poi i giornali si rilevano partiamo dunque dall'almanacco e vediamo che oggi il santo del giorno è Santa Elisabetta d'Ungheria Santa Elisabetta d'Ungheria figlia di Andrea re del suo paese quindi era una principessa fu destinata sposa a Ludovico IV che era il langravio di Turingia e fu una sposa devota dobbiamo dire pia caritatevole si dice che ogni giorno provvedesse al sostentamento di più di 900 poveri portando loro dei ciberi degli indumenti rifugì lo sfarzo di corte il marito poi morì in viaggio durante una crociata insomma andava verso la Palestina e a Otranto morì Elisabetta rifiutò un nuovo matrimonio e continuò le sue opere di carità fino alla morte che avvenne nel 1231 a soli 25 anni ed allora fu dichiarata santa e vediamo ora le previsioni del tempo il tempo sulle Marche si mantiene ancora variabile diciamo così in prevalenza comunque nuvoloso con qualche addensamento in più nella serata di oggi i venti saranno tesi e proverranno da ovest e sud ovest il mare è poco mosso le temperature si aggireranno sui 12 gradi per quanto riguarda la minima e 17 per quanto riguarda la massima il mare è poco mosso ed ora apriamo i giornali a partire dal resto del Carlino questa mattina dove vediamo che sono stati assunti e resi noti i provvedimenti nei confronti di quelle locale che è un po' fa da coagulo a bande di giovinastri che destano tutta la preoccupazione dei residenti di Via Nolfi la stretta è servita in titola il resto del Carlino chiuso il caffè dello sport e dopo i disordini che si sono verificati all'incrocio tra Via Nolfi e Via Borgoggelli arriva il provvedimento del questore il titolare reagisce ma quei delinquenti dice non sono figli miei insomma non è che queste cose sono avvenute dentro il suo locale ma sono venute all'esterno comunque il locale sarà chiuso per sette giorni e questo è il provvedimento che è stato assunto dal questore ma poi ci sono testimonianze che evidenziano come il fatto di sabato notte non è stato l'unico che si è verificato in quella zona ce ne sono stati altri precedenti e tutti particolarmente gravi insomma preoccupanti diciamo così a pesare sulla decisione del provvedimento che è stato assunto non solo dunque l'episodio di sabato ma anche le proteste dei residenti per gli schiamazzi gli atti vandalici che vanno avanti da tempo e che hanno sollevato più volte l'intervento delle forze dell'ordine vediamo poi un episodio che è collaterale ma è interessante perché è a margine a quanto è avvenuto domenica domenica mattina si è svolta l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione dei carabinieri è in via Gasparoli non molto lontano dal via Nolfi e l'incrocio di via Borgogeli un presidio importante dunque sono i carabinieri in congedo non hanno più la facoltà di procedere ad azioni dirette come gli arresti o provvedimenti simili ma potranno fare da intermediari molto molto efficaci con le forze dell'ordine e siccome si tratta di un'associazione che riunisce circa 120 persone 120 persone che frequentano il centro storico che hanno lo spirito dei carabinieri è un presidio importante per salvaguardare la sicurezza monitoraggio del territorio i carabinieri in congedo ci sono inaugurate in via Gasparoli la sede dell'associazione presidio di legalità e di sicurezza e poi il Carlino riporta oggi la notizia della condanna ridotta il giovane che ha malmenato e ha salito appunto un suo coetaneo davanti ai giardini nei giardini della Rocca Maratestiana in appello l'imputato Costas ha avuto uno sconto di pena di due anni giriamo la pagina e vediamo che nella seconda pagina del Carlino si parla di due iniziative che avranno luogo sabato prossimo ebbene alla MEMO sabato prossimo c'è una bella iniziativa sull'orientamento scolastico i genitori e i ragazzi che dovranno passare da un settore di una scuola all'altro ovvero dalle medie e le superiori o dalle superiori alla università non dovranno fare il giro delle sette chiese ma potranno trovare alla MEMO un resoconto di tutti gli istituti tutte le offerte scolastiche che ci sono in città dalle scuole medie alle superiori ecco la bussola per non sbagliare un indirizzo di studi che sia più congeniale al ragazzo alla studente che ai desideri della famiglia sabato torna l'appuntamento con Fano Orienta dove gli studenti si confrontano con i professori dei vari istituti ebbene sabato dalle 15 alle 19 alla MEMO ci sarà questo evento dedicato appunto agli orientamenti chi fa le quinte classi delle superiori o le terze delle scuole medie che dovrà decidere appunto quale indirizzo di studi scegliere potrà frequentare ci sono tutte le aule diverse aule ogni aula viene dedicata ad un istituto quindi ognuno potrà fare insomma un excursus e decidere poi quello che gli è più congeniale e ci saranno anche due incontri uno gestito da Alessandra Bacchiocchi del centro per l'impiego di Fano alle 15.30 sempre alla MEMO e poi alle 17 ci sarà un intervento dell'esperto in orientamento psicologo e scrittore Gianluca Antoni che affronterà il tema del ruolo che possono svolgere i genitori nell'aiutare i figli a compiere questa decisione questa transizione tra un indirizzo di scuola e l'altro veniamo alla seconda iniziativa che si svolgerà sabato 26 novembre ebbene questa è una giornata di tipo nazionale dedicata a tipo regionale scusate dedicata al commercio equo e solidare ebbene al centro Don Orioni si svolgerà una iniziativa particolare un'iniziativa che ha poi un personaggio che viene gestita da un personaggio particolarmente noto come Giulia Innocenzi protagonista di una trasmissione televisiva che sarà presente appunto per vivacizzare questo incontro sul commercio equo e solidale ci sono diverse aziende che praticano questo tipo di commercio questo tipo di prodotti che non viene ceduto soltanto con intenti speculativi ma soprattutto che a monte ha un rapporto più compatibile più diretto più giusto diciamo così con i produttori e soprattutto quelli che abitano che risiedono nei paesi del terzo e del quarto mondo giornata equo in Cegiulia Innocenzi appunto sabato 26 novembre invece il 5 dicembre è una data particolare per la sanità di Marche Nord infatti in quella data verrà riaperto il punto nascita di Pesaro ma questo rischia di destabilizzare la situazione che si è consolidata fino ad oggi e su questo tema interviene oggi sul resto del Carlino il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia di Marche Nord Claudio Cicoli ad oggi 8 pediatri in tutto ne serviranno 9 per il nuovo presidio che si aprirà anche a San Salvatore lo sdoppiamento del punto nascita tra Pesaro e Fano crea dei problemi e bisogna risolverli prima di aprire il centro altrimenti ci saranno delle disfunzioni dopo l'altolà del sindaco Seri che aveva parlato di scelta inopportuna nel giornale di ieri il primario di ostetricia e ginecologia di Marche Nord spiega come la situazione e questo è il titolo che appare sul resto del Carlino che cosa accade? lo sdoppiamento del servizio richiederà 8 pediatri e 4 medici ostetrici in più rispetti a quello inorganico ha detto Cicoli per coprire i turni sulle 24 ore servono 9 medici per presidio mentre ora i pediatri sono solo 8 e quindi occorrerà un personale personale in più per così rimpinguare questo servizio e poi vediamo che il terremoto continua a fare danni a Fano c'è del pavimento di un'abitazione che si trova a Sant'Angelo di Feriano sulla collina sulla collina dove ci sono poi dei calantichi che degradano sulla valle del Metauro e una abitazione è occupata da una donna che lì vive con il suo cane ebbene questa abitazione ha subito dei danni nel pomeriggio i vigili del fuoco di Fano hanno dichiarato nel pomeriggio di ieri e hanno dichiarato inagibile una villetta che ha avuto un cedimento strutturale il sopralluogo ha evidenziato il cedimento strutturale di un angolo della casa che risulta pendente da una parte e quindi bisognerà intervenire con i muratori e poi vediamo come in consiglio comunale l'altra sera si è parlato invece dell'organico degli infermieri e dei medici soprattutto quelli che prestano servizio ai pronto soccorso la deficienza di organico è stata rimediata dalla direzione sanitaria con l'attribuzione del servizio alle cooperative e questo non piace ai politici non piace soprattutto al PD non piace ai 5 Stelle non piace alle liste civiche ebbene in consiglio comunale si è approvato un ordine del giorno firmato dai 5 Stelle su cui ha avuto poi l'adesione anche degli altri partiti di maggioranza e di maggioranza che dice che si mostra contrario a questa soluzione che è stata attuata dalla direzione sanitaria bisogna incrementare il personale assunto dal servizio sanitario nazionale e non invece cedere questi servizi essenziali ai privati secondo appunto i sottoscrittori dell'ordine del giorno ebbene però l'ordine del giorno non è stato votato anzi è stato votato contro dai 5 Stelle scusate dai Fratelli d'Italia e dalla Lega che sono un po' quelli che detengono la maggioranza in regione giriamo ancora la pagina e vediamo un fatto di cronaca è stata arrestata una 28enne fanese con mezzo chilo di cocaina in borsa è stata ritrovata con questa sostanza nel corso di un controllo eseguito dai carabinieri in centro storico aveva la borsetta appoggiata sul sedile a fianco a quello dove risiede con il volante e dentro c'erano 60 grammi di marijuana e poi insomma c'erano anche altre cose portata in caserma la 28enne è stata sottoposta ad arresto in fragranza per detenzione ai fini di spaccio di lungente sostanza di stupefacente perquisita anche la sua casa ma lì non si è trovato nulla una buona notizia viene poi riportata dall'assessore regionale Stefano Aguzzi in merito alla protezione della costa nuove scogliere per Fano e Marotta il primo intervento riguarda il tratto dall'Arzilla a Fosso Seore quindi siamo a Fano Nord l'altro vuole rafforzare il litorale dopo gli allagamenti e sappiamo come per un intervento generale siano disponibili i 4 milioni e 400 mila euro dei quali è stata finanziata la progettazione con 233 mila euro soprattutto si inizierà con le scogliere dal torrente a Zilla a Fosso Seore sono quelli che serviranno a proteggere il litorale che ha subito il maggior degrado dalla furia delle mareggiate giriamo ancora la pagina siamo ad Urbino si parla ancora dell'archivio Capellini e del contrasto che c'è appunto con l'amministrazione comunale questo è il titolo il sindaco rimane irremovibile nel riprendersi i locali di Via Oddi Torrico e Nasoni restituiscano le chiavi e vengono a discutere con me ha detto perentoriamente il sindaco Maurizio Gambini Cantiano lotta infinita contro le inondazioni i lavori per mettere in sicurezza il centro sono stati numerosi anche nel secolo scorso e in questo articolo si cerca così di fare un'analisi storica per quanto è venuto per le furie del Burano un altro corso d'acqua che generalmente è placido per tutte le stagioni dell'anno ma quando si infuria crea ingenti danni quel che si è fatto per imbrigliare il corso d'acqua non è bastato e qua vediamo le opere che sono state fatte durante gli anni 30 addirittura questa galleria di grandi dimensioni per un po' è servita a contenere la furia delle acque e poi invece anche questa non è risultata sufficiente la situazione degli allargamenti è stata codificata nel corso degli ultimi 150 anni e l'articolo descrive come la storia è stata documentata vediamo anche qualche immagine di Pesaro che pubblica il resto del Carlino anzi torniamo a Fano con un risvolto del delitto di Anastasia fiaccolata e colletta nel nome di Anastasia la comunità si mobilita per il suo bambino che ora è la vittima che è rimasta da tutelare in ogni modo Anastasia per Anastasia purtroppo non c'è più niente da fare intanto oggi è atteso l'arrivo della mamma di Anastasia la mamma che dovrebbe arrivare con una sorella della donna intanto in consiglio comunale è stata ricordata la ragazza ed è stato un atto veramente bello quello di deporre nel tavolo davanti all'emiciclo due scarpette rosse con una rosa rossa era un simbolo così di tenerezza di affetto per questa ragazza ucraina che è stata deceduta e fuggita dalla guerra per stare tranquilla nella nostra città invece qui è morta a causa del marito il piccolo il bambino in questi giorni è rimasto affidato alla famiglia Carloni e quindi sarà lì protetto fin quando poi non sarà affidato alla nonna la tragedia di Anastasia ha mobilitato la comunità ucraina è stata ricordata in consiglio comunale è stata ricordata poi dalla comunità delle elette e una riunione questa online che si è verificata sotto il coordinamento dell'assessore Sara Cucchiarini a cui hanno partecipato anche rappresentanti di tante tante associazioni esponenti politici consiglieri comunali e si è deciso di ricordare perché tutta la città poi è stata mobilitata di fronte a quanto è avvenuto ci sarà nel giorni del diciamo del funerale probabilmente sarà poi la salma portata in Ungheria una fiaccolata per ricordare Anastasia e poi ci sarà anche una raccolta di fondi per aiutare la famiglia e soprattutto il bambino che in questo momento è rimasto senza genitori Mustafà pronto ad essere trasferito a Villa Fastigi è questo l'autore di questo assassino barbaro assassino la procura di Pesaro attende il trasferimento di Mustafà dal carcere di Bologna a quello di Villa Fastigi i magistrati dovranno interrogarlo per la conferma della misura cautelare in carcere che appare comunque scontata ovviamente il marito è omicida di Anastasia ha confessato il delitto ha fatto ritrovare il corpo della donna chiuso in un trolley e poi abbandonato in un derupo nella zona di Villa Giulia a Gimarra e queste sono notizie che già sono note comunque è questo il volto dell'assassino giriamo pagina e vediamo di un altro lutto si sono celebrati i funerali di Milena la quattordicenne che è deceduta nel corso di un incidente stradare si tratta di Milena Lentini una grande folla per lo straziante addio eri l'unica speciale ciao piccola il saluto che è stato dato in tantissimi hanno partecipato al funerale della ragazza di 14 anni morta a quattro giorni di distanza dall'incidente l'arcivesco ha detto lei ora è in pace e noi dobbiamo cercare di dare pace a noi stessi e soprattutto ai suoi familiari che sono stati colpiti da un dolore indicibile un altro lutto si è spento a Tiglio Barbalic fondò l'azienda Luxmobili domani alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni a Pesaro ci saranno i funerali e intanto questa sera alle ore 18 il rosario sempre nella stessa chiesa di Via Passeri avevamo già allontanato quell'allenatore parlano così i dirigenti della società in cui lavorava il ragazzo che è stato denunciato per certi atteggiamenti equivoci nei confronti dei ragazzi che facevano parte della squadra si parla del caso del 14enne che ha denunciato il tecnico per palpeggiamenti parla il dirigente appunto della società non faceva per noi per altri motivi ha dichiarato e sembra che insomma questa presenza stava diventando scomoda per la società stessa e forse i dirigenti avevano capito che qualcosa non andava in merito alla presenza di questo ventottenne che poi è stato denunciato ma la Tari dobbiamo pagarla o no dicono coloro che hanno beneficiato degli sconti che sono stati promessi dall'amministrazione comunale cos'è accaduto a Pensaro a Pensaro è accaduto che l'amministrazione comunale ha approvato dei benefici a favore di determinate categorie di cittadini che rispondevano a certe situazioni reddituali ebbene questi non hanno pagato alcune rate della Tari così come era stato detto loro ma ora però queste rate sono scadute e sorge il dubbio insomma siamo evasori o siamo beneficiari degli sconti promessi dall'amministrazione comunale e con questo articolo appunto si chiede al sindaco o all'assessore competente di dirimere appunto questo interrogativo e di dare notizie certe per non colpevolizzare poi i cittadini che si sono fidati delle promesse dell'amministrazione comunale e qua invece vediamo i cittadini che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni perché la ciminiera del laboratorio Mengaroni è stata dichiarata pericolante sfollati tour da un hotel all'altro riportatici a casa al più presto hanno dichiarato sono una trentina di persone che sono state evacuate da via Luca della Robbia a Pesaro al momento sono alloggiata all'hotel Cesar ma dovranno spostarsi in altre strutture speriamo dicono questi cittadini che la ditta rispetti i tempi annunciati perché stare in albergo non è proprio il massimo perché poi uno non ha le proprie cose insomma non ha i propri vestiti non ha il proprio ambiente la propria atmosfera insomma si trova a disagio e non è proprio per colpa loro noi mandati in un appartamento senza riscaldamento né coperte perché ed è la protesta di Olga Moskovna già protagonista della battaglia per le querce di via Carloni anche lei ha dovuto lasciare casa per colpa del sisma e sono i disagi che soffrono appunto i cittadini torri del porto il tarbacchetta alla procura non si può minimizzare la portata di rompente che il procedimento penale ha avuto a carico del nuovo portum e di altri proprietari questo è il titolo che appare su questo articolo che ripone alla ribalta il caso delle due torri al porto che devono essere ancora costruite ma che hanno già determinato problemi e polemiche prima appunto di mettere pietra su pietra vediamo anche la pagina che riguarda la sicurezza si tratta di un problema che un po' è generale in tutto il territorio ricordiamo che a Marotta nei giorni scorsi sono verificati dei furti operazione mille occhi su Pesaro e le telecamere sono appunto un deterrente per certi reati rete di videoallarme contro i ladri Paolo Nicolini afferma il sistema è collegato con la centrale delle forze dell'ordine a tutela di aziende e private insomma ci sono occhi che sono ora molto molto più efficaci nell'individuare certi episodi di elinquenza perché sono immediatamente collegati con le forze dell'ordine quindi se c'è qualcosa che non va all'intervento sarà immediato e quindi ladri e rapinatori avranno una vita più difficile ora vediamo quello che ci dice il Corriere Adriatico due pagine sulla pagina di Fano vengono dedicate al delitto che è stato compiuto su Anastasia Anastasia era attesa dal PM nell'indagine ci sono dieci ore di vuoto la giovane uccisa doveva riferire dei maltrattamenti subiti da accertare gli spostamenti del marito dopo il delitto insomma le indagini sono ancora in corso la vita di coppia di questa famiglia ucraina che risiedeva a Fano era ormai alla fine c'erano dei dissidi e già Anastasia aveva attivato le forze dell'ordine aveva attivato la magistratura perché voleva separarsi dal marito che le usava violenza e quindi c'è anche una sorta di rammarico perché questa denuncia questa richiesta di aiuto non è andata poi alla fine ha non andata a buon fine il marito infatti con un atto di vehemenza è intervenuto e poi ha fatto quello che ha fatto ci sono dieci ore di vuoto nelle indagini sull'assassinio quelle trascorse domenica da quando il marito egiziano accusato dal delitto ha terminato il lavoro di Fattorino alla pasticceria Cavazzoni intorno a mezzogiorno e quando è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Bologna occorre vedere accertare quello che ha fatto in questo periodo di tempo e qui vediamo il cordoglio della città familiari della vittima saranno ospitati a Fano il femminicidio ha turbato la città minuto di silenzio in consiglio comunale ed è stata attivata una raccolta di fondi una fiaccolata verrà realizzata con la partecipazione della comunità degli ucraini a Fano programmate iniziative in memoria di Anastasia vediamo le altre notizie il degrado è tollerato da dieci anni ormai ora di farla finita per quanto accade in Via Nolfi e in questo articolo si riporta il provvedimento che è stato assunto dal questore sette giorni di chiusura al locale che fa un po' da centro di coagulazione di questi giovani in Via Nolfi il caffè dello sport chiuso per sette giorni un altro articolo misura del questore dopo le ultime violenze il comune ne apprezza l'incesività omicidio stradale a Fossombrone chiesto il giudizio per lo schianto mortale di Battaglini Simone Battaglini non aveva perso il controllo della moto è stata una macchina che lo ha investito e a determinarne la morte i carabinieri smentiscono l'avversione dell'automobilista la famiglia delle vittime segnala di aver subito illazioni che hanno aggravato anche il dolore provato per la morte del loro congiunto e dopo tante tante disgrazie parliamo di una cosa che ci si solleva lo spirito almeno così possiamo dire sfiorato il supercolpo da 309 milioni al super enalotto è avvenuto a fossombrone alla tabaccheria del corso sono stati vinti non 309 milioni ma 40 mila euro insomma non sono pochi ugualmente il fortunato almeno potrà stare tranquillo per un po' di tempo 40 mila euro azzeccando un 5 e vediamo anche la pagina della Valcesano a Pergola il ponte di Bellisio è pronto ma oggi non potrà riaprire la sindaca Guidarelli ha incontrato i pergolesi per fare il punto sulla alluvione e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa con un appuntamento per domani alle ore 7 e per le notizie del giorno questa sera alle 20.30 occhio la notizia su Fano TV non perdetelo questo è tutto per il momento vi auguro una buona giornata a risentirci grazie a tutti Grazie.